Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Comincio col dire che lunedì sera si è tenuto il Consiglio Comunale e per un problema di rete non è stato possibile fare lo streaming dell'intera seduta del Consiglio Comunale. Il video però è stato registrato ed è stato caricato correttamente sulla pagina YouTube del Comune di Fagnano, quindi per chi volesse seguire la seduta del Consiglio Comunale può andare a recuperare il video proprio su YouTube. Nella giornata di mercoledì 28 ho nominato con decreto la nuova giunta comunale, nuova per modo di dire perché molti assessori sono stati confermati, alcuni hanno avuto un aumento di deleghe, qualcuno una piccola diminuzione e l'ingresso di un nuovo assessore. Il nuovo assessore che entra in giunta è Edoardo Bascialla e tiene le deleghe del bilancio. A lui e a tutta la giunta va il mio augurio di buon lavoro. Partiamo con gli eventi della settimana. Questa sera inizia presso l'area feste la festa della protezione civile organizzata da 4 Prociv. Quest'anno la festa si raddoppia, quindi c'è questo fine settimana e anche il prossimo, lo annuncerò anche la settimana prossima nel video. Sabato 1 luglio presso il parco Avisaido alle ore 21 l'ultima serata della rassegna Senza Sipario. La compagnia teatrale La Marmotta presenta lo spettacolo Classe di Ferro. Per questo video è tutto, non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!